L'avanzamento tecnologico nella radiofonia è stato notevole nel corso degli anni, passando dalle valvole ai transistor e poi a internet. Le valvole erano i componenti principali delle vetti e radio, utilizzate per amplificare e modulare i segnali elettrici. Tuttavia, le valvole erano ingombranti e richiedevano molta energia per funzionare. Negli anni 50, sono stati introdotti i transistor, che sono dispositivi a semiconduttore più piccoli e più efficienti energeticamente. Questo ha reso possibile la creazione di radioportatili più piccole e convenienti. Successivamente, con l'avvento di internet e delle tecnologie digitali, la radio è diventata sempre più accessibile online. Le trasmissioni radiofoniche sono diventate disponibili in streaming su internet, consentendo agli utenti di ascoltare le loro stazioni radio preferite da qualsiasi parte del mondo. Oggi, molte stazioni radio trasmettono sia su onde radio tradizionali che su internet, offrendo una varietà di opzioni per gli ascoltatori. Inoltre, le radio digitali e le app per dispositivi mobili hanno reso ancora più facile l'accesso alle trasmissioni radiofoniche, offrendo una vasta gamma di stazioni e contenuti personalizzati di stazioni. Dopo! !